Questo è il programma per una quando si venga l'auto, è comodo eh? Questo è un WhatsApp, questo è un programma per me, riproduce un messaggio, cosa vuoi riproduce? Ecco il messaggio, microfono messaggio vocale, 24 e 16 minuti. Microfono messaggio vocale, 24 e 16 minuti. Passi il navigatore, per conoscenza di spedettare un certo connesso. Quindi da qui, da qui, possiamo decidere di parlare. Non so come aiutarti con, possiamo decidere, per suggerimenti su cosa dire, attiva il microfono e vi aiuto. Misterio in fronte. Non so come aiutarti. Non so come aiutarti. Non so come aiutarti. Cosa vuoi uscire? Si vede, non so come vai fare. Essi, vabbè. Andride out. limitato wifi, disattiva il wifi con android down in esecuzione si vuole vestire l'alto per la schiena con l'escrizione ah, non si vuole va bene passiamo da un'escritta da un'escritta ecco, fattori raffa stupiamo 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 Grazie a tutti